Dalla capo di Stato Maggiore dell'Esercito Carmine Masiello e magnifici rettori Benno Albrecht per la prestigiosa Università UOV di Venezia, Francesco Bonini per la LUMSA e Lucio D'Alessandro per l'Università Sororsola Benincasa e poi Sora Alessandra Smerilli, segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale per la Città del Vaticano, l'Avvocato Francesca Mariotti e la Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Pescara Nareta Mantini. Figure intellettuali di assoluto spessore riunite per confrontarsi sul delicato tema del valore etico della decisione tra pubblico e privato. Si è trattato di un primo appuntamento moderato dalla Presidente designata dalla Fondazione Palazzo de Santis di Letto Manoppello Silvia Elena di Donato nell'ambito delle iniziative del Cantiere delle Idee promosso dal deputato del PD Luciano D'Alfonso. Luciano D'Alfonso in un'epoca in cui si prendono purtroppo tante decisioni sbagliate, se la qualità della decisione deve essere generativa e costruttiva. In che senso? Ma che abbiamo le risorse finanziarie, anche di più di quelle che riusciamo a spendere. Quello che non si riesce a comporre è risorse finanziarie, conoscenza dei problemi della realtà, competenza, motivazione e capacità di porsi la domanda. Ma dopo che accade? Quanto dura quella soluzione? Quanto costa? Quanto toglie e quanto sottrae? Ecco, su questo io vedo una debolezza di cultura generale che anche le università dovremmo assumere su di sé affinché mai più si faccia questa valutazione errata, minimalista, sottrattiva. Questo appuntamento di oggi è il primo di una lunga serie per generare un cantiere delle idee, una specie di cortile dei gentili per fare in modo che la decisione di oggi e di domani sia di qualità, sapendo che le risorse finanziarie ci sono, anche in Abruzzo, 3 miliardi di euro in pancia ci sono. Però dovremmo reimparare la programmazione. Sono Alessandra Smirilli, si parla del valore etico, del decidere, in un'epoca in cui si ha quasi paura a fare le cose, no? Sì, è importantissimo decidere e decidere in maniera generativa e non distruttiva, perché ci sono tanti tipi di decisioni, ma è importante decidere perché anche non decidere di fare qualcosa è una decisione che però non porta del bene. Chiaramente decidere vuol dire scontentare qualcuno, ma se non si corre questo rischio non ci saranno mai dei cambiamenti. E allora il valore etico della decisione è anche decidere per il bene. E decidere per il bene vuol dire non andare avanti da soli, ma lavorare in gruppo, in squadra, in modo che sia più semplice capire che quella è la strada che dobbiamo percorrere. E poi si decide con l'esempio. Non si può decidere se non si è coerenti tra il dire, il fare e il sentire. Questo è anche un insegnamento di Papa Francesco. Grazie. 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 Grazie.